Di nuovo insieme dunque per le pagine di Sport, Sport dove in evidenza c'è il bel pareggio del posticipo tra Perugia a Cesena 1 a 1 e lo vediamo subito con il Corriere dello Sport, emozioni e pari in una sfida da A a Guberti sblocca per il Perugia con un gran gol poi Ligi di testa riporta in corsa. Il Cesena lo vedremo nel dettaglio tra poco, segnaliamo anche il Pisa dove c'è il Zia, la cessione torna Gattuso, attese per oggi le firme sul preliminare di vendita, la squadra aspetta ringhio Pisa che era il centro, era fitta al centro dell'attenzione, la sua vicenda l'ha provocato il rinvio della gara con la Ternana segnaliamo dalla Lega Pro, la Paganese oggi la sentenza del Tar dentro o fuori dalla terza serie nazionale allora dicevamo con i quotidiani regionali l'analisi dettagliata del posticipo di serie B grifo divertente, loggiamo con il Corriere dell'Umbria, pareggio Beffa, monologo bianco-rosso al Manuzzi gioiello di Guberti ma nel finale Ligi di testa castiga la difesa, finisce 1 a 1 bella prestazione, Agazzi sfoda la miracoli e salva almeno due volte il Cesena il pareggio sta stretto alla squadra di Bucchi che ha comandato la partita è ancora, Guberti è straordinario, la mano di Bucchi c'è, l'analisi delle pagelle del prete a un missile Dezzi pericolo costante per la difesa avversaria, bianca in palla, non trova la rete ma tiene sempre in apprezzione la retroguardia di casa, la San Bene sul Ciano ma si dimentica Ligi sul gol del pari il mercato, l'Albinone F sulla Ussoni, entrata a pista calda per l'attaccante Nicastro il grifone subito in campo, si gioca sabato alle 20.30, torna a Nocchiosa e dichiara intanto abbonamenti a 4.262 da oggi via la prevendita per la sfida con il Bari dicevamo la Ternal, abbiamo accennato, Ferres punta acqua fresca eppure Osugi con sondaggio per il centravanti del Bologno e Mirino puntato sul nigeriano ex Modena, Pisa resta ancora tutto bloccato Tornana possibile anticipo a sabato in vista dell'ipotetico recupero proprio con la formazione nera-azzurra ma ovviamente c'è tutto da definire andiamo in Lega Pro con il Gubbio, c'è il ritorno di Narciso datemi 15 giorni, sarò pronto, è arrivato ieri notte il portiere che affiancherà Fox Volpi ho parlato con Mangi, sono a disposizione a Foggia meritavamo la B, poi l'infortunio alla spalla e la riabilitazione qualche giorno di duro lavoro e Puntini Puntini intanto caccia al bomber, mancano 48 ore alla chiusura del mercato i nomi degli attaccanti continuano a rimbalzare come palline da ping pong sul tavolo rosso-blu andiamo in Serie D con il Trestina che è pronto a stesserare l'ex Ternana della Spoletina se venisse accolto il ricorso, terbi di Coppa con il Foligno ricorso per la gara contro la Pianese ma ora il Foligno vuole regalare Mercaia, mister Guazzolini società al lavoro per portarlo in bianca-azzurro prima dell'esordio di domenica soddisfazione per l'ex Lua con il Matelica dove però si sono sbagliati troppi gol la curva a Bucciarelli pro-terremotati intanto Gregori, niente maceratose congiunti ora aspetta una panchina da primo allenatore e poi Clamo Rosso va in onda il ribaltone a Città di Castello è saltato in reality ora la palla passa a Caldei e Calagreti domenica c'è l'Alba Longa servono rinforzi possibile quello del mediano Gori, due voci di corridoio Lascia Gioi, responsabile del settore giovanile c'è ovviamente il punto interrogativo perché non ci sono conferme il tecnico Condemi resta al timone altro interrogativo che si innesta a seguito appunto di questo improvviso ribaltone non era mai scattata mai la scintilla e oltre a ciò c'era a dir poco un forte scetticismo allora era inutile insistere visto che anche la messa in onda di un canale sconosciuto e non quello annunciato della prima puntata in reality stelle del calcio e quindi Città di Castello Calcio e ITA TV hanno deciso di lasciarsi intanto per la Subasio c'è il colpo d'ossia che all'Angelana vanno forte i bebi è quanto emerso dall'ultimo dalla fine settimana volle di a uno maschile i sirmaniaci montate almeno una tribuna fissa questa è la richiesta ma il presidente Sirci sceglie la via del silenzio andiamo alla Nazione anche qui ripartiamo dal Perugia è un Perugia no limits Guberti che magia ma sfuma la vittoria Almanuzzi Biancorossi dettano legge in trasferta ma i padroni di casa rispondono con la rete di Ligi i portieri ragazzi salva del prete spreca il vantaggio nel finale e Delsi d'applausi del prete spinge Zebli lotta in mezzo al campo insomma tante note positive dall'esordio in questa stagione mercato Nicastro oggi il summite recisivo della Rocca rischia di restare fuori Bucchi che sorride grande spirito siamo ambiziosi il tecnico è soddisfatto Città di Castello stoppa l'esperienza reality e salta l'accordo tra il club e l'Itatv squadra c'è da rifare domenica arriva l'Alba Longa Guazzolini invece elogia il Foligno ma c'è da lavorare dopo il successo col Matelica il mercato del volley Perugia arriva la schiacciatrice Larini mentre da Foligno il tennis Valone Scattelli le favorite del torneo Grifo esordio da faula ripartiamo dal messaggero Cesena il Perugia domina e dà lezione di calcio partita coraggiosa in linea con le promesse Eurogoal di Guberti un'ora perfetta non basta i bianconeri su angolo riescono a fare 1-1 a due minuti alla fine sfuma un successo meritato Cristian Bucchi è soddisfatto siamo sulla strada giusta portiere ragazzi il migliore dei suoi miracolo sull'ottimo Dezzi molto bene anche il capitano del prete scendiamo in serie di Città di Castello niente reality salta tutto la società ITTV si separano era andata in onda soltanto la prima puntata andiamo andiamo alla pagina di approfondimento lo sport Folignate bravo il mio Foligno si vince con la testa il tecnico Guazzolini soddisfatto dell'atteggiamento del gruppo contro il Matelica peccato che non si prendano punti per il campionato dobbiamo proseguire così la scelta del 4-4-2 ha funzionato bene può essere una carta in più per il futuro ancora ai 10.000 metri di corsa per vivere la città siamo a Foligno invece tornando al calcio con la Voluntas patron Censi dice avanti tranquilli la squadra c'è dopo la sconfitta in coppa il patron vuole trasmettere serenità all'ambiente noi con questo concludiamo il nostro appuntamento con l'informazione di TRG mattina vi ricordo gli appuntamenti dalle 19 con i notiziari ma vi segnalo anche le repliche di TRG plus ovviamente del calcio con anteprima fuori gioco tutti gli aggiornamenti ovviamente nel nostro portale trgmedia.it grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata con i nostri programmi grazie per aver guardato